Vogliamo restituire un locale che è del comune, che è qui all'interno di Piazza di Giustizia, in modo tale che possa essere di nuovo adibito a ristorazione, ma per farlo non facciamo prevalere la questione economica, abbiamo deciso, grazie al Presidente della Corte d'Appello e Soprano, di includere e permettere solo a chi lavora in ambito di cooperativa con l'inserimento di detenuti e ex detenuti la possibilità di partecipare al bando. Quindi l'idea è di uno spazio dove detenuti e ex detenuti lavorano all'interno di Piazza di Giustizia e riparte la loro vita all'interno della normalità.